Antica cura per la disfunzione erettile. L'incapacità di ottenere o mantenere un'erezione può essere causata da bassi livelli di testosterone, cattiva alimentazione, depressione, affaticamento e avvelenamento da metalli pesanti. Nella medicina tradizionale cinese, la disfunzione erettile è causata dalla carenza di yang renale e dal ristagno del chi epatico. Alimenti dannosi. Oli vegetali raffinati. Alimenti trasformati. Zucchero. Dolcificanti artificiali. Caffeina. Alcol. Cibi grassi. Cibi fritti. Alimenti che curano. Cibi ricchi di fibre. Cibi ricchi di omega 3. Salmone. Tonno. Noci selvatici. Cibi ricchi di vitamina E. Semi di girasole. Mandorle. Noci del Brasile. Avocado. Spinaci. Cibi ricchi di zinco. Fegato. Semi di zucca. Fagioli. Uova. Manzo nutrito con erba. Brodo di ossa. Olio di cocco. Cereali senza glutine. Riso. Farina d'avena. Patate dolci. Ciliegie. Fichi. Cannella. Zenzero. Le 5 migliori prescrizioni antiche. 1. Fieno greco. Aumenta il testosterone. Assumere da 500 a 2000 mg al giorno. 2. Panax ginseng. Conosciuto come viagra naturale, può promuovere una sana funzione erettile. Assumere da 600 a 1000 mg al giorno per 4 a 12 settimane. 3. Estratto di sopalmetto. Supporta i livelli di testosterone. Prendi la dose raccomandata. 4. Epimedium, erba di capra cornea. Facilita il flusso sanguigno. Prendi come indicato. 5. Rodiola. Migliora la funzione sessuale. Assumere da 150 a 200 mg al giorno per 3 mesi. Altri rimedi. Fare allenamento di forza e allenamento a intervalli ad alta intensità. Provare l'agopuntura. Ridurre lo stress attraverso la preghiera, la meditazione e lo yoga. Dormire 8 ore a notte. Pratica la gratitudine. Anche zinco, tribulus, cordiceps e maca possono aiutare. Oli essenziali. Aggiungi 3 gocce di olio di sandalo, un afrodisiaco naturale, a un cucchiaino di olio di cocco e strofinalo sull'addome, sulla parte posteriore del collo e sulla pianta dei piedi. Distribuisci 5 gocce di olio di rosa, che doma lo stress e l'ansia, o strofina due gocce sul collo prima del rapporto sessuale. Non perdere il prossimo episodio di Antica Medicina Cinese, solo su Antica Nutrizione. Nel prossimo episodio La cura per l'influenza. Seguimi sul canale YouTube per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti. Antica Nutrizione vi augura una salute straordinaria. Grazie.